Dopo tanti anni finalmente possiamo dire che il Comune di Venezia ha capito le richieste del personale, ha capito le richieste delle educatrici e riconosce che il servizio pubblico è un servizio di indubbia qualità. I sindacati sono soddisfatti per il raggiungimento dell'accordo sugli asili nido comunali su cui lavoravano da tempo, rivendicandone la valorizzazione e la difesa della scuola pubblica e scongiurando in tutti i modi l'esternalizzazione del servizio. Il Comune riconosce la centralità della scuola pubblica, riconosce il valore di questi servizi, riconosce che questi servizi sono di qualità efficienti e possono garantire e rispondere ai bisogni delle famiglie ben meglio anche di servizi privati, quello che noi abbiamo sempre sostenuto in questi anni. Per questo abbiamo fatto questo accordo che blocca le esternalizzazioni, valorizza la formazione del personale, mette al centro percorsi che miglioreranno dal nostro punto di vista anche la qualità dei servizi, e continuiamo a pensare che servono maggiori investimenti, servono assunzioni, potenziamenti del personale ausiliario, serva rafforzare la comunità educativa per tenerla al fianco delle famiglie e offrire veramente dei servizi sempre più qualitativi ai bambini nella nostra comunità.